Il comune di Terranuova Bracciolini affida le pulizie dei luoghi pubblici alla pluriservizi. Azienda di proprietà al 53% del comune terranuovese e per il restante agli altri comuni della vallata. Offre già servizio di mensa in molte zone del Valdarno e adesso, grazie a questa assegnazione, ha anche la gestione delle pulizie del Palazzo Comunale, del Palageo, Palazzo Concini, Sala del Consiglio, uffici di polizia municipale, CIAF, magazzino comunale, palestra delle scuole elementari e biblioteca. Il vice sindaco di Ponte spiega i motivi di questa scelta. Questo percorso ci permette di intanto soddisfare quello che era uno degli elementi che avevamo detto in campagna elettorale, quello di valorizzare alcune delle nostre società e che abbiamo rivendicato all'interno del piano delle dismissioni a marzo delle società partecipate dal comune. Quindi, come dire, fortifiamo la società. Allo stesso tempo, però, questo percorso ci permette di avere una riduzione di costo per quanto riguarda questo tipo di servizio e soprattutto anche di tutelare le maestranze che sono già oggi inserite in questo ambito lavorativo e anche di ottenere un servizio comunque di qualità. Il tutto sarà in vigore per tre anni e cioè fino alla fine del mandato dell'amministrazione, con un costo complessivo per l'ente di circa 160.000 euro.